buonasera a tutti voi non potete fare ovviamente questa verifica però dovete sapere che youtube dà le iscrizioni in tempo reale io non riesco ovviamente a mercati aperti a guardarlo però magari prima che inizi il mercato quando arrivo in ufficio al mattino e quando finisco il mio giro le telefonate verso quest'ora guardo comunque la situazione del canale per vedere anche se c'è da rispondere a qualche vostro commento e poco fa il tempo reale diceva 1995 per cui mancano solo 5 iscritti per arrivare alla fatidica soglia dei 2000 quindi vedete che non lo chiedo quasi mai però chi non si fosse ancora iscritto al canale sempre che ritenga interessanti questi video può iscriversi e permettere di raggiungere alla community il traguardo dei 2000 iscritti in meno di 4 mesi che per un canale di sola finanza operativa a mio avviso è comunque un risultato egregio non voglio però perdere altro tempo perché come sapete io ho preso comunque vada impegno fino a fine anno anche se i risultati di crescita del canale fossero deludenti perché sono uomo di parola ma siamo qui a parlare di mercati e oggi iniziamo vi condivido subito lo schermo con questa schermata che è una schermata che ci dice che in questo momento il dao fa più 0 62 il nasdaq su altro stand empur fa più 1 0 4 il nasdaq 100 più 1 95 russell più 1 0 1 il dax più 0 51 il cac più 0 59 l'euro stocks più 0 87 noi a livello di fib stiamo facendo più 0 70 che cosa sto cercando di dirvi che se guardiamo questa schermata vedete che a parte dow jones finalmente gli indici americani stanno cercando standard empur e nasdaq soprattutto di colmare almeno parzialmente quel gap che è iniziato in maniera vistosa da inizio anno sta cambiando un po il paradigma del 2022 quando il dow jones era praticamente decisamente assimilabile come andamento a quello degli indici europei e adesso invece è l'indice più debole perché il più forte l'abbiamo visto nel video di riepilogo della settimana che ho pubblicato ieri in nasdaq poi c'è lo standard empur 500 e solo ultimo il dow jones quindi quando vi avevo detto che i mercati europei erano troppo forti ovviamente mi riferivo al fatto che o i mercati americani avesse iniziato una fase di recupero o i mercati europei avrebbero dovuto correggere fortunatamente per il mercato al momento sono i mercati americani che stanno riprendo forza ed è per questo che c'è ancora una fase positiva anche per i mercati europei quello che vi ho detto questa mattina lo ribadisco non credo che sarà una settimana clamorosa come variazioni per quanto riguarda i mercati azionari perché ovviamente sono attese la fed il primo di febbraio e la bce il 2 di febbraio oggi io ho mancato un ingresso clamoroso vi ho aperto già qui il book su apple era uno dei titoli che ho dato nella mia newsletter finanziaria e non ho comprato perché ho fisso un prezzo limite avevo fissato 125 euro su mta international oggi ha fatto un minimo a 125 96 poi addirittura ha fatto 131 e 78 solo 100 pezzi comunque diciamo che ha scambiato anche sopra 131 sarebbe stato un ottimo ingresso ma quando fisso un prezzo limite io poi non inseguo il titolo e comunque aspetto ovviamente domani per valutare se tentare un ingresso o meno normalmente io lo faccio valido solo per la intera giornata tra l'altro adesso vedete che il mercato sta anche un po correggendo perché ovviamente è molto tirato diamo uno sguardo anche i volumi che sono oggettivamente bassi un miliardo e settecentosette milioni e andiamo a analizzare i principali indici comunque americani ed europei per vedere come si stanno impostando e poi fuzzimib short perché devo parlare di una serie di titoli micro cap che stanno partendo e devo assolutamente mostrarvi e dow jones spinning top informazione è respinto per adesso dalla media mobile a 50 33 mila al 590 rimane sempre trading range cui vi ho parlato stamattina standard pur più forte recupera con decisione la media mobile 200 3 mila 966 sarebbe importante lo verificheremo poi domattina una chiusura sopra 4.015 nasdaq ha rotto il massimo relativo delle ultime sedute 11.223 è molto importante una chiusura sopra questo livello primo target già centrato perché ha fatto oggi 11.405 target era 11.352 sopra c'è la media mobile 200 11.552 veniamo al dax che si è riportato nella parte più alta del range è importante che questa sera chiuda sopra 15.134 cac deve chiudere sopra 7.056 e farà fatica ovviamente a farlo euro stocks sopra 4.197 e anche qui diciamo che non è facilissimo perché comunque c'è questa correzione dei massimi dei mercati americani e anche in europa stiamo un po' ritracciando nostro fuzzi mi più al momento è una sorta di amerino informazione in questo caso è importante almeno una chiusura sopra 25.850 sarebbe stata meglio sopra 25.970 veniamo ai titoli protagonisti della seduta odierna partiamo ovviamente da leonardo c'è la commessa degli elicotteri poi qualcos'altro perdonatemi ma l'ho letto proprio al volo in ambito credo aereo spaziale comunque in ogni caso titolo che arriva praticamente sul target della long wide del 16 di agosto 9.214 oggi fa un massimo a 9.226 prossimo target che potrebbe toccare anche domani 9.268 e poi il massimo della shooting star del 3 di agosto 9.53 e 4 ovviamente chi fosse dentro deve continuare ad alzare lo stop ha lasciato questo micro gap aperto a 8.952 quindi l'uscita è in caso di chiusura giornaliera sotto 8.952 poi abbiamo ital gas che fa una bellissima engulfing bullish anche quasi marobozzo white chiude proprio sulla media mobile a 200 in realtà qualche tic sopra domani a questi massimi a 5.52 assolutamente alla portata poi addirittura potrebbe tornare fino a 5.64 che è il massimo della marobozzo black sporca del 15 di dicembre scorso poi ricopertura su intesa credo che siano state le dichiarazioni di Messina e un upgrade di una banca d'affari americana non mi ricordo se JP Morgan o Goldman o Morgan Stanley poco cambia perché oggi fortunatamente si fa una spinning top simil doji però si allontana da questa rialzista per cui comunque è scongiurato l'applicazione di uno stop ovviamente al momento quello che mi aspetto non è una ripartenza rialzo ma al limite un movimento in trading range tra 2,1525 e il massimo del 16 gennaio 2,31 poi abbiamo A2A ecco quando io non ho una lettura corretta ve lo dico sempre mi aspettavo ecco qui l'abbiamo visto nel webinar sulle candele giapponesi se il titolo avesse proseguito al ribasso ci sarebbe stata tranquillamente la terza candela rossa e quindi i tre corvi neri invece oggi fa quasi una contro candela al momento come per intesa però secondo me non vedo la forza di un breakout dei massimi quindi 1,4095 ma un trading range compreso tra 1,326 e 1,4095 poi tra i titoli peggiori abbiamo ovviamente Enel per lo stacco cedola però attenzione che se contiamo la tassazione ha perso di più rispetto allo stacco per cui graficamente per domani può proseguire la fase di correzione fino a 5,31,3 e poi eventualmente media mobile a 50, 5,27 e mezzo stesso discorso vale per Snam che ha perso più dello stacco se ricordo bene Enel era 20 centesimi Snam 11 per fortuna ecco Snam di buono ha che dopo un minimo intraday piuttosto profondo 4,688 chiude a 4,753 e non perde l'importantissimo livello di 4,664 che però potrebbe andare a testare domani e eventualmente completare la fase correttiva fino a 4,52,7 poi tra i titoli peggiori abbiamo ancora Tenaris che secondo me semplicemente sta correggendo l'ipercomprato su indicatori oscillatori e deve trovare una sua base oggi ha fatto un minimo a 16,12 poco sopra media mobile a 50 che passa per 16,10 il supportone è poche tic sopra area 16 vedremo domani come può comportarsi poi per quanto riguarda invece Fineco Fineco mi pare vi dico il livello giusto che ci sia ancora il gap da chiudere a 16,085 credo che possa toccarlo anche domani o dopo domani poi c'è un livello importante che è il 15,61 minimo di questa Marubozu White leggermente sporca del 3 di gennaio e pochi tic sopra a 15,64 c'è anche la media mobile a 50 adesso spostiamoci sui titoli micro cap che oggi hanno fatto dei numeri incredibili perché come vi dico ogni volta desidero che allarghiate sempre più la vostra diciamo la vostra il vostro punto di osservazione sul mercato numero veramente è vero i volumi bassi 58 mila pezzi che però per il titolo sono pochi di SOS Travel per come si è impostata domani può arrivare almeno fino in area 1,10 se non 1,12 o 1,14 ovviamente chi è rimasto fuori come sottoscritto deve stare a guardare io non vi nascondo che ho preso una posizione in warrant perché il titolo mi ha dato buone sensazioni in questo senso ovviamente chi fosse entrato oggi se non ha monetizzato secondo me deve comunque domani proseguisse a rialzo che sia la chiusura di oggi che risponde anche al massimo per il troverà sospeso per il cesso di basso di rialzo perché sia l'1,06 uno stop profit va sempre messo in macchina altro titolo che ha fatto il numero è Nusco vedete che addirittura Nusco rompe in una sola seduta questa ribassista che durava dal 12 di agosto scorso ovviamente pur avendo chiuso proprio sulla media mobile a 50 può proseguire ancora la fase di rialzo il target naturale è 1,524 avendo pochi tics sotto 1,516 la media mobile a 100 poi vabbè per me ormai è quasi incomprensibile perché mi sembra veramente un eccesso continua a salire Alfonsino ve la faccio vedere il target è stato centrato questo qui che era 1,24 oggi ha fatto 1,24 e 4 poco sopra c'è la chiusura del gap lasciato aperto 1,27 però mi raccomando anche se vi sembra distantissimo Alfonsino io per darvi un'idea entrerò solo se tornasse almeno in area 0,90 dove transita anche la media mobile a 200 altro titolo che ha fatto il numero è Omer vedete questa bella Long White che a un certo punto era anche Marobozo White fatto un massimo a 2,94 superando in 3 la media media mobile a 200 2,86 poi ha chiuso 2,85 ovviamente il supportone area 2,60 se domani chiudesse sotto 2,77 e mezzo io mi permetterei di consigliare uno stop profit altro titolo che si è comportato molto bene è cover 50 qua parliamo addirittura di un breakout dei massimi di periodo che erano stati a 11,80 fatemi fare una verifica per vedere vi ho allargato a time frame settimanale dove può arrivare il titolo questa l'ha già superata quindi probabilmente il target per le prossime sedute è 12,87 che poi 12,90 che è massimo su time frame settimanale corrispondente la terza settimana di giugno del 2017 quindi segnale molto forte stop profit per chi è in posizione sotto 11,80 per chi è rimasto fuori direi non prima di 11,50 per un ingresso come vedete sono partiti tanti titoli che appartengono al segmento micro cap anche soluzione tasse che oggi si chiama al core ha rotto i massimi di periodo qui i volumi sono un po' più bassi però il titolo potrebbe proseguire fino almeno a 2,23 2,28 e mezzo si è mossa abbastanza bene anche rocket sharing che ha comunque fatto un nuovo massimo di breve periodo a 0,51 e 6 vedete molto interessanti i volumi che sono 228 mila in questo caso il target potrebbe essere 558 e poi 589 0,558 0,589 vi voglio poi ancora mostrare san lorenzo che ha scambiato decisamente di più poco meno di 30 mila pezzi ed è tornato praticamente sui massimi di periodo che sono stati a 39,45 oggi ha fatto 39,35 vediamo sul time frame settimanale che il target successivo è 40,55 corrispondente ai massimi della prima settimana di marzo in realtà l'ha fatto a fine febbraio questo toccato a questo livello poi come ultimo titolo che si sta dimostrando molto forte c'è industria denora ormai siamo arrivati nuovamente in area di massimi storici i massimi storici erano stati 17,18 il 12 di settembre dello scorso anno oggi abbiamo fatto 17,13 titolo che domani potrebbe breccare al rialzo anche i massimi storici 16,80 è il livello di stop profit per chi è rimasto fuori attendere almeno area 16 per un reingresso poi vediamo qualche titolo un po' più negativo direi meglio questo uno call il minimo l'ha fatto peraltro con pochissimi pezzi però questo è un titolo che può tornare tranquillamente a 1,71,2 e poi a 1,66 oggi hanno venduto anche un po' di vantea in realtà dai minimi ha recuperato piuttosto bene perché era arrivato addirittura a 4,065 e nelle ultime sedute era arrivato fino a 4,90 direi che è importante la tenuta in questo caso di 4,55 poi correzione direi un po' fisiologica di autostrade meridionali vedete che dopo questo massimo impressionante a 13,35 di giovedì oggi perde il 2,71% e nelle prossime sedute potrebbe tornare almeno a 12,10 e magari fino eventualmente a 11,30 però su debolezza è un titolo sempre da monitorare poi come altri titoli che hanno avuto una perdita abbastanza significativa nella giornata di oggi c'è l'UVE che comunque continua a scambiare piuttosto bene è salita molto dai minimi del 12 ottobre scorso che sono stati a 12,76 su questa Graveston Doge ha fatto un massimo a 28,80 quindi io aspetto almeno un test della media mobile a 50 ovvero 25,6 a rotondo e poi ci sono altri titoli che hanno subito delle perdite per esempio vi faccio vedere ancora Solid World però se graficamente è vero che il titolo può raggiungere almeno 2,13 e poi eventualmente 2,04 e 2,02 però i volumi sono stati soltanto 20.000 pezzi per cui sia negli esplori alzo che nelle correzioni un po' più significative teniamo sempre conto sì dei volumi medi magari a tre mesi sono i migliori per me da verificare per cui magari tanti titoli sono andati sopra questi volumi però calcoliamo anche il controvalore perché se è un valore inferiore già a 100.000 euro significa che i titoli sono ovviamente facilmente manovrabili anche per questa sera abbiamo concluso noi ci sentiamo domattina prima dell'apertura del mercato diurno auguro una buona serata a tutti